Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! I giochi incrementali sono quelli dove all'inizio ottenete delle cose, che possono essere soldi e risorse, in modo molto esiguo. E reinvestendo queste piccole parti di soldi guadagnate, andate a migliorare la vostra base di partenza, fino a moltiplicare, decuplicare e via via all'infinito aumentare le vostre entrate. Noi al momento che cosa facciamo? Il gioco ci mette in questa condizione dove abbiamo una casa, e con questa casa noi otteniamo, in base al tempo che trascorriamo in gioco, un introito, un affitto. Livellando, facendo varie cose, aumentiamo i punti di esperienza, peso massimo, alla fortuna possiamo scegliere, io aumento i ricavi dell'1%, sono già due livelli che faccio così. Ora, che cosa facciamo noi qui? Andiamo a raccogliere il grano. Quello che potremmo fare in futuro, probabilmente, adesso io ipotizzo perché ho visto qualche screen, ma ovviamente bisogna esplorarlo ed è quello il bello, perché non c'è mappa, non c'è niente, si gira, si esplora e si trovano nuove cose da prendere. E immagino che ci sarà la possibilità di acquistare un macchinario che ci consentirà di raccoglierlo molto più velocemente di come stiamo facendo ora, in questo momento. E tutto questo grano che noi stiamo raccogliendo, adesso lui ripoppa dopo pochi minuti, quindi noi possiamo stare qui e farmarlo. I soldi che vedete in alto a destra, avevo 1.500 dollari, euro anzi, ne ho ottenuti 24.000 vendendo tutto questo grano in questo edificio che stiamo vedendo qua in alto. Quindi può essere un po' noioso, ma altrettanto può essere anche definibile come rilassante, perché comunque io la sto godendo pian piano. Ho già visto che c'è il negozio che vende le auto, le auto le vende a partire da 400.000, quindi adesso poi facciamo un girettino e vi faccio vedere quello che si può fare. Perché comunque appunto la mappa ho detto è grande e ci sono edifici che vi consentono di ottenere molti più soldi in base al tempo che passa, fino a 100.000 dollari in 3 minuti o una roba del genere. Però dobbiamo poi passare fisicamente a raccoglierli, quindi vi faccio vedere. Qua abbiamo allora intanto, qua abbiamo un edificio, un capannone, un fienile insomma che definiamo e qua ci dice 15.000 ce li genera ogni 8 minuti, ci costa 6.800.000 fuori da ogni logica per l'economia che abbiamo ora. Ora vi faccio vedere che andando qua noi possiamo andare a fare apri negozio e possiamo acquistare delle cose o venderle e quindi vendo questo mais e vendo anche il legno che ho raccolto. E adesso ho 39.000. 39.000 io potrei pensare di investirli in case e quindi prendere questi baracchini qui, queste tipiche case americane, le acquisto per 18.000, mi fa 120 ogni 1 minuto e 40 secondi. Quindi posso far così per ogni casa. Adesso io torno di là. Abbiamo un peso massimo di 100 kg che possiamo trasportare premendo i, vedete l'inventario qua sulla destra. E abbiamo i bonus che abbiamo in base al livellamento che abbiamo scelto diciamo di intraprendere. Poi vabbè parte la musica solo quando siamo nel menu e vabbè. La grafica è una grafica in Unreal Engine ma è la classica grafica Poli su cui ci hanno fatto un sacco di survival. Ora abbiamo livellato ancora l'aumento dei ricavi. Ora vi faccio vedere quello che mi porta il mio appartamento, la mia casa che ho al momento. Questa casa produce 300 dollari ogni 3 minuti e 20 secondi quindi dobbiamo fare i calcoli e raccogliamo 900. E vedete che dobbiamo ancora raccogliere. C'è la possibilità poi anche per le attività quelle più diciamo particolari di potenziarle e quindi di migliorare le sue entrate. Adesso questa è una casa che viene venduta a 38.000, cifrata 200 e io la compro. Ma sì dai, compra. Ok, e abbiamo la prima casa raccolta in affitto. Ora bisogna poi capire dove sono le case che abbiamo affittato o meno quindi diventa complicata la cosa. Però intanto abbiamo due case che producono soldi. Qua abbiamo un'altra casa, questa mi sa che produce tanto perché 22.300 ogni 3 minuti e anche questa non è male. E qua abbiamo il market, il market produrrà tantissimo presumibilmente perché costa anche tanto, costa 5 milioni e produce 13.000 ogni 7 minuti. Quindi bisognerebbe raggiungere quella cifra lì per poter pensare di guadagnare più soldi. Qua abbiamo il car dealership che ci consente di acquistare le auto e vedete che qua abbiamo le auto. 15 milioni, 250.000, 700.000 e con queste potremmo vagare più rapidamente in giro per il mondo. Ma noi continuiamo intanto l'esplorazione perché ci sono tante altre case da acquistare, tante altre attività per aumentare le nostre entrate. E questo vedete che è il classico gioco incrementale dove in genere 700.000 genera tanto questo. Dove tante volte, nella maggior parte in realtà, sono giochi dove cliccate con il mouse su vari menu e guardate le cifre aumentare. Qua vagate fisicamente, può piacere, può non piacere, è questione di gusti ovviamente. Qua sono belle queste case qui, ma di là vedo altre cose. Dicono che comunque la mappa sia abbastanza grossa. Vediamo, questa è una casa 115.000 e produce 400. Vabbè, intanto io devo ricordarmi dove ho preso le case perché potrebbe essere saggio non comprarle a caso, in giro, ma comprare magari delle vie in modo da passare e raccoglierli volta per volta. Questo gioco è uscito inizio luglio in free to play. Non ha attualmente moltissime recensioni, infatti in italiano non ce ne sono. E potreste dire, ma perché porti un free to play? Lo porto come video bonus, ma giusto come spiegazione. Perché comunque questo gioco mi è stato mandato, non mi sono accorto che è free to play, quindi mi è stato mandato per così dire. Questo 450 milioni. Però diciamo che un contributo lo vorrei portare comunque. Qua non c'è più niente. Overseas import export. Ah ok, praticamente questo, sì, abbiamo praticamente comprato il, compreremo lì la società import, quindi è per quello che guadagniamo così tanto. Là in fondo c'è, qua c'è un magazzino. Customer park for lease. Ok. Quelli fanno delle mosse, un po' strane. Semivolto? Ah no, ok, pensavo. Vabbè. Safe available. Ok, praticamente questo è il magazzino. Con l'aria dei camion. Poi, io sono sempre dell'idea che con questo motore grafico si possano fare delle meraviglie. Questo costa 700 milioni e ci fa un milione ogni 9 minuti. Tra l'altro, appunto, mi chiedo cosa offrirà il gioco arrivando in zone di endgame, quindi con dei tanti milioni da spendere. Questa casa qui, 26.160 ogni 2 minuti. Pensavo che questa bombola pericolosissima facesse qualcosa. Salve. Adesso andiamo a vedere se sta già producendo qualcosa la casa che abbiamo preso, ma come vi dicevo prima, io non mi ricordo quale ho comprato, quindi bisogna andare. Non c'è una mappa, eccola lì. Sì, quella con la banconota a blu. Quindi noi adesso andiamo. Ovviamente bisognerà farmare all'inizio quel campo di grano, continuare a fare botte di 25.400. Ok. Andiamo a prendere anche dall'altro. E poi bisogna organizzarsi. Non credo sia multiplayer perché si gioca... È il menu, è molto spartano, molto semplice. 309. Abbiamo fatto 700. Quindi in questo caso vedete che io vado e raccolgo. Ormai mi si è rigenerato tutto il grano che avevo raccolto prima, non si è capito di chi è sto grano, comunque bisognerebbe fare una cosa più di questo tipo in modo da andare via veloce e premere spasmodicamente l'AE in modo da raccogliere ovunque si passi, anche in modo molto veloce ed efficiente. Impostare il percorso tra due zone in modo da... Ok, questa l'abbiamo fatta abbastanza rapidamente. Ma nel giro già di un minuto o due potrebbe già ricomparire, quindi... Ok, il gioco la ghicchia un po', ma probabilmente per la pesantezza. Comunque, vediamo la pesantezza della registrazione. Qua vendiamo il mais a 5.000. E quindi io adesso ho messo da parte 8.000, che non è ancora niente, per comprare un'altra casa ho fatto un altro livello, quindi tecnicamente aumento i ricavi. Sto continuando a puntare su quello, anche se in realtà... Mi temo di essermi buggato. Adesso io salvo. Vedete, il menu è molto, molto, molto base. Niente, ho buggato il menu. Va bene, ragazzi. Allora, questo è Poliplaza, gioco molto carino, free to play, se vi va di provarlo. È un passatempo, assolutamente chill, assolutamente passatempo. Valutatelo per quello che è. Io vi ringrazio, vi saluto e vi rimando ad un prossimo videogameplay. Alla prossima e ciao ciao! 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 Ciao!